La più grande storia sportiva per antonomasia, riportata sugli schermi solo per voi. La riabilitazione catartica di un relitto umano. Riacquistare la forma fisica non gli faceva male. Ma forse un po' sì. La folle rincorsa contro il nemico di sempre, Ivan Drago. Vietato ai minori di 77 anni. Respinto, umiliato, alienato, ma anche amato, sognato, rincorso, tutto questo per ritrovare la sua amata. Ancora una volta sugli schermi, lo stallone italiano per eccellenza. Rocky Balboa, ai cinema. In full HD 1080i di MD-TG. Nei migliori cinema italiani. Tranea mandola.